Che è successo? Che il proprietario dice che non ce la fa più. Ma lei cosa può fare? Lei, donna semplice, mamma, lavoratrice, cosa può fare? Stare zitti e alcune volte è come dire bugie. Tutto sembra impossibile. Quell'unica alternativa è la disperazione. Ma chi ha deciso? Impossibile. Ma perché noi la facciamo noi nella proposta? Sabrina Ferilli. Ma lei pensa di mettere paura? Rimbocchiamoci le maniche. Dal 7 settembre in prima assoluta, Canale 5.